In Abruzzo stoppa il pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo il tratto centrale dell'Adriatico da San Benedetto a Termoli, dove le attività dei pescherecci si fermano da oggi 16 agosto al 21 settembre. Il fermo cade quest'anno in un momento difficile poiché il blocco delle attività va a sommarsi al caro carburanti, con il prezzo medio del gasolio per la pesca, che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite e favorendo le importazioni di pesce straniero, considerato che fino ad oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante. Fran Corsini, insieme a suo figlio, armatore di Antonietta, imbarcazione di 15 metri, ne approfitta per svolgere qualche lavoretto di manutenzione. Andiamo a lavorare quasi per nulla, perché troppe spese, il gasolio costa tanto caro, i contributi si devono pagare, tra il gasolio c'è l'olio, succede un guaio, devi andare da un meccanico, è tutto aumentato. Il prodotto ittico per noi è uguale all'agricoltura, cioè a noi ci danno non nulla, ma quasi poco. Queste le condizioni, praticamente noi usciamo solo per andarci quasi paro. Le difficoltà sono dettate anche dal fatto che voi attendete ancora fondi, ristori del fermo pesca dello scorso anno. Sì, certo, purtroppo i nostri commercialisti sono indaffarati, ma la burocrazia italiana, sempre con questa burocrazia, qua non arriva niente, niente o poco. Tutte quelle belle promesse che hanno detto in tv qua non si vedono niente. E il fatto che tra poco si torna al voto, secondo voi potrebbe essere un punto di svolta? Io personalmente vorrei un paese politico, non di larghe intese perché è tutto un brodetto, praticamente parlando gergo marinaresco, è tutto un brodetto, quindi non va bene. Io ho un mio pensiero, ma per me, ho il mio pensiero, ho il pensiero degli altri, l'essenziale è che sia politico, non brodettato.